Tutto pronto, primo atto della stagione per l'Aquila di Giovanni Pagliari che ospiterà oggi al fattore il gubbio dell'ex Leonardo Acori. Ci si aspetta una buona cornice di pubblico, visto anche i risultati saltanti di Rosso Blu in Coppa Italia, con la storica vittoria al Dallara di Bologna e la sconfitta onorevole con l'Empoli. Contro gli Umbri però non bisogna distrarsi e servirà un approccio forte e deciso. Pagliari conferma il 4-3-3 già testato in Team Cup, con il rientro di Pomante in difesa al posto dello squalificato Maccarone, con Ligorio terzino sinistro al posto di Carcalis. A centrocampo confermato il trio Perpetuini del Pinto e Corapi. Dubbi maggiori invece riguardano il reparto offensivo con Perna che Dolori al Polpaccio a parte sarà impiegato da punta centrale. In caso al suo posto è pronto De Sosa, che da domani passerà in prestito al Como dopo aver allungato il contratto con l'Aquila. E a proposito di mercato, è fatta per il ritorno di Scrulli in maglia rosso-blu.